Non un semplice contenitore di notizie, ma un aggregatore dei contenuti prodotti dai media CEI, organizzati per argomenti particolarmente sensibili e legati all'attualità. È online il nuovo portale di informazione CEI News, che parte dalla notizia per andare oltre, aprendo ai social in maniera interattiva la comunicazione della Chiesa italiana. La conferenza episcopale è un editore che possiede una televisione, TV2000, un giornale a venire, un'agenzia come il SIR, un circuito radiofonico in blu. Ecco, tutto questo abbiamo cercato di farlo interagire grazie proprio alle potenzialità che la cultura digitale ci mette a disposizione. Nel contempo, questo portale ha la grande forza di aprirsi ai social, di rilanciare i contenuti e di accogliere anche quelli che sono i contributi, le opinioni di chi vorrà interagire con noi. Focus di approfondimento, hashtag tematici e finestre che rimandano alle app e ai social media collegati alla CEI, rilanciati e condivisi sui social network più diffusi. Il nuovo portale conferma la speciale attenzione della Chiesa italiana al mondo della comunicazione, tema che sarà al centro della prossima Assemblea Generale dei Vescovi. Sarà una tensione non rivolta meramente agli strumenti della comunicazione, ma rivolta alla conoscenza del mutato quadro nel quale oggi noi ci ritroviamo. Oggi i strumenti di comunicazione, i mezzi di comunicazione non solo informano, qualche volta addirittura disinformano, ma molte volte contribuiscono anche a creare l'identità delle persone, l'identità di un popolo, l'identità anche di una società e allora diventa molto più urgente essere presente ed essere presenti come lievito.